ciao a tutti buon lunedì e soprattutto buona polemica l'argomento di oggi riguarda il tanto amato cioccolato che può essere sotto forma di tavoletta tra l'altro consiglio vivamente quello dell'esse lunga che è stra buono a forma di cuore per i più romantici con le nocciole per esempio i ferrero rocher o a forma di coniglietto con tanto di sonaglino ci sono tante altre forme di cioccolato anche molto fantasiose tra cui quelle a forma di ano ebbene sì il mio caro amico pietro che avete visto nell'esplorazione della villa liberty mi ha fatto leggere un articolo di un professionista chiamiamolo così che confeziona cioccolatini utilizzando il calco dell'ano mi chiedo io va bene che è cioccolato però ricevere dei cioccolatini di quella dubbia forma mi farebbe un po senso e io non sono una che si scandalizza o si imbarazza così facilmente però è un pochino di dubbio gusto eppure ho letto infatti quasi quasi vi metto il link dell'articolo nell'info box così potete leggere e farvi un'idea pare abbia successo puoi anche scegliere la tipologia di cioccolato quindi a latte fondente o bianco magari anche con le striature dubbi e striature voi che cosa ne pensate riguardo a questa moda io mi accontento di quelli a forma di coniglietto al massimo visto che avendo tra le mani tutti questi cioccolatini mi è venuta voglia me li vado a mangiare augurandovi buon lunedì e domani esce un video di un'esplorazione molto originale e mercoledì o giovedì adesso devo vedere in base ai miei impegni ne uscirà un altro nel quale collaboro con un urbex molto conosciuto molto apprezzato anche dalla sottoscritta ebbene sì questa settimana doppia esplorazione e quindi ai prossimi video